ciao a tutti benvenuti in un nuovo video oggi apriamo il box NBA top class 2023 24 di panini e il box dei fat pack ovvero i pacchi grossi 24 card più due holo dentro ogni pacco quindi andiamo a vedere faccio vedere cosa è contenuto dentro ogni cioè cosa qual è la collezione le 270 card che completano il set come sono divise più ci sono le holo che sono a parte c'è una rarissima possibilità di trovare anche un autografo dubito che succederà a me però intanto andiamo a aprire il primo pacchetto non so se riuscirò ad aprire tutto un fat box in un video perché diventerebbe molto lungo però vediamo partiamo e vediamo me la voglio proprio godere per questa è una collezione bellissima come vedete nella carta al centro c'è il logo delle top class impresso molto raffinato diciamo le immagini sono molto belle apprezzabile che non ci siano bordi bianchi dal mio punto di vista il nome dell'atleta probabilmente l'avrei apprezzato più in basso ma in questo modo da più da modo di tenere tutta l'immagine grande ruba meno spazio quindi ci può stare ci può stare e faccio vedere anche il retro delle card il retro è bellissimo perché alla fine nelle card sono i dettagli che fa la differenza il retro è molto bello fatto molto bene queste sono le base che sono 135 poi andiamo avanti veric lively the rosa tra l'altro questo sbusto avviene proprio in concomitanza con l'avvio dei playoff nba di quest'anno quindi quale momento migliore barrett abbiamo anthony davis monociglio poi per non spoilerare facciamo così luca doncic ottimo io sono un po la ricerca di uem bagnama ed essendo tifoso aiuta jazz di tutte le carte di aiuta jazz a partire da fontecchio che non è più in maglia jazz ma è comunque un italiano mi fa piacere trovare la carta kevin durant orford anthony black questo devo ammettere che non lo conosco di magic turner e caldo il po poi c'è rimasto una base che è quella di joellen bead ottima e poi veniamo alle speciali partiamo con prossimo faccio così vi spoiler anche quelle che ci sono dietro per cui ne prendiamo un po alla volta cam thomas dei brooklyn net questa synergy dei dallas maves con luca doncis e carrie irving molto bella bella sono belle anche le rifiniture della card anche al tatto sono veramente ben fatte poi iniziano con le girate abbiamo un winner di kevin durant abbiamo il barba rainbow master un'altra rainbow master di tatum sono molto belle queste con lo sfondo immagine bellissime queste carte veramente belle poi abbiamo una max power ce ne sono anche come ad esempio questa di kessler quindi sono molto contento di averlo trovato ci sono come queste molto più colorate sgaraggianti carine come invece le rainbow master o le winner che sono un po più sul dark che sono entrambe belle a modo loro quindi la collezione è bellissima come anche questa super sonic che sono gli inserti di cui ce ne sono di più o comunque uno di quelli dove ce ne sono di più che comunque sono stupende come effetto grafico come impatto grafico ecco poi abbiamo questa di holiday questo è il retro e si vede che già qui a differenza degli altri è holo vediamo che carta ci troviamo andiamo a win di holiday quindi come vedete molto ben fatte queste card e poi andiamo avanti abbiamo un un beat ball parallela parallela rossa e come c'era scritto nel adesso vi faccio vedere perché anch'io è il primo sbusto quindi potrebbe sfuggirmi qualcosa e non vorrei che mi sfuggisse una parallela ma come scritto qui ci sono le un beat ball in 5 colorazioni quindi questa è la variante red hot direi e soprattutto di stephen carry che voglio dire è un nome molto 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 buono questa card è bellissima ecco come color match ci stava meglio un blu se proprio a grande richiesta però diciamo che molto buona molto buona la lasciamo qua no non la metto che non vorrei che il focus della fotocamera non fosse corretto allora poi abbiamo new sensation di wen banyama che fa parte del set puzzle ma è comunque wen banyama quindi mi fa piacere averlo trovato un'altra new sensation qui di hayton in maglia blazer questa insomma e poi veniamo le due holo che è shy nella prima uh iuta jazz per la seconda clarkson non so quanto resterà ancora jazz però giocatore che comunque mi è sempre piaciuto anche gli anni scorsi quindi apprezzo e shy subito imbustato anche lui due belle holo che mi mancavano sono molto contento di questo pacchetto soprattutto per questo fantastico carry andiamo avanti allora i pacchetti sono di carta di cartone per cui si aprono molto bene io rimango impressionato dei dettagli che panini ha messo in questa collezione che sono veramente secondo me di grande livello io non ero più abituato a panini che facesse cose così buone bene allora sistema un attimo il pacchetto perché così ci andiamo a vedere subito le nostre base spettacolare questa qui è una card base spettacolare walker kessler che tra l'altro uno dei miei iuta jazz quindi ben 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 felice poi kai cameron johnson donovan mitchell pascal shakam morant uh fontecchio che l'avevo chiamato ottima ottima pullata che solo su 135 nomi non ho ben capito il perché di mettere fontecchio però sono contento cioè da italiano con questa collezione ribadiscono non è uscita in italia quindi però viene così devin vassell caldwell pop che forse doppia già la prima dopo valanciunas guta anderson e questo in realtà un giocatore ha ritirato più che in attività perché ormai non gioca più fatto l'errore di prendere il fantabasket inizialmente come scommessa ovviamente ma cosa vuoi scommettere vabbè 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 poi andiamo avanti il problema di queste card che sono tutti girati in modo strano quindi adesso proviamo supersonic di garland bello anche questo di golden state synergy curry thompson purtroppo una synergy che non so quanto durerà ancora visto che thompson ha il contratto scaduto winner di caldwell pop è una scelta discutibile per me perché io avrei messo qualcun altro nei denver però effettivamente caldwell pop ha vinto anche in maglia lakers quindi potrebbe avere anche in un senso mccolum rainbow master poi attenzione leonard winner bella questa card tanta roba corretro holo davvero davvero bella poi non so se girare tutto girare solo queste supersonic di sexton che essendo tutte con in holo tutti i nomi in rilievo così si fa fatica tramite lo schermo a leggere il nome quindi green di rockets poi abbiamo davis winner abbiamo rainbow master paul george poi abbiamo master class di dei raptors di young for ziggins new sensation belle le new sensation hanno tutto un gioco di luci che parte dal centro verso l'esterno a raggi io sono allucinato dalla qualità di queste card che tutto sommato non hanno un costo così eccessivo quindi un beatable un altro un beatable di lebron james del king ma attenzione questa è base la differenza di curry vi faccio vedere la differenza che era rossa potete vederlo dal nome e un po' dallo sfondo qui è bianco il nome grigio e la master class di kevin love effettivamente ora andiamo a vedere le due holo e sono rudy guberts marcanen ottima 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 sono contento soprattutto di marcanen me li imbusto subito quindi secondo pacchetto dove a differenza del primo non ho trovato una parallela o carte particolari però sono contento perché comunque c'era questo c'era fontecchio c'era sexton c'era marcanen bene ora visto che siamo più di dieci minuti di video apro l'ultimo pacchetto e poi dopo ci fermiamo perché altrimenti è troppo lungo qui cerco di andare un po' più in fretta scotti barnes ruia cimura victor wamba nyama ma attenzione questa è la base comunque sarebbe stato bellissimo trovare l'autografo non penso che esista però sarebbe stata una roba altro che saltare dalla sedia tyler irro queste sono tutte girate ma sono tutte base quindi holiday l'inutile pool banchiero il barba gordo id sharp sharp e cappotti come dice il buon edo che è un po' aperto rainbow master di doncic bella con l'effetto dietro bellissimo max power di robinson synergy di philadelphia 76er poi abbiamo max power sono belle le max power perché tutti schiacciate così neandre jordan di nuggets e questa credo sia doppia già poi abbiamo rainbow master di tatum la max power di kessler qui tutte doppie mi pare supersonic di lonzo ball eh sì eh sì eh sì winner di holiday masterclass anche le masterclass hanno un effetto molto bello poi come è fatta la card sono pensate veramente bene se facessero delle card wwe così sarei molto molto felicione un unbeatable di lebron james e questa è parallela questa è parallela non so le rarità sono cinque tipi non conosco le rarità però intanto portiamo a caso un'altra parallela e siccome le parallele è uno ogni venti pacchetti venti pacchetti da otto però quindi questi penso che vengano considerati tre però comunque sia ottima pullata poi la masterclass di westbrook io non mi aspetto niente da questi pacchetti tutto quello che esce è qualcosa di più quindi bene così abbiamo rimasto le due holo che sono stephen kerry e nurkitz queste sono esattamente le due che ho trovato nel raccoglitore non so se sia un caso o se comunque adesso me li imbusto perché comunque sono card importanti e andiamo a fare un punto della situazione quindi diciamo tre fat pack aperti due pull di rilievo che sono le parallele di stephen kerry e di lebron james molto molto felice di averle trovate contento non mi aspettavo niente quindi qualsiasi cosa esca solo che un plus notevole io spero che vi sia piaciuta questa serie che vi piace l'nba se seguite scrivete nei commenti sotto per chi ti fate magari facendo i chiacchiere e per il momento fine del primo video spezzetterò l'apertura di tutto il box in tanti video perché sono veramente tanti pacchetti sono dieci pacchetti quindi ne abbiamo fatti tre almeno altri due video ci saranno con questo è tutto appuntamento quindi al prossimo video spero vi sia piaciuto e un saluto a tutti ciao